Allora, lei lo porta lei il pulma stasera? La squadra è la, la squadra è la, la squadra è la, tanto allenatore ci rientra, eh? E' bello questo. Meglio l'allenatore o l'autista? Non c'ho più voce. Non c'ho più voce, eh? Il mister deve recuperare le sierette, non si è fumata. Eh, non si è fumata. Complimenti mister. Non c'ho più voce, non c'ho più voce.